Buongiorno a tutti amici E ve la voglio far vedere ragazzi perchè comunque è un buon mazzo che funziona abbastanza bene Agro Allora, gioca due innervazioni, due radici viventi, due gnomi contaminati, due iresilvana, due druide, due lanciatori cortelli, due recrute, due ruggiti, due spazzate Una bestia selvaggia che è molto utile da mandare in combo per il potere eroe per tenere pulita la board Due custodi, due segatronchi, due druidi, due virraziatori, due forze della natura e un dot boom Allora ragazzi A volte i virraziatori sono un pro e un contro Purtroppo se voi cercate di giocarli se ce la fate O quando avete almeno la combo in mano Almeno quando avete la combo in mano Oppure se li avete di terzo turno, avete l'innervate, li giocate di quinto Cioè, quindi li giocate di terzo turno Ok, ci può stare Perché comunque vi danno molto value È difficile che l'avversario ve li possa rimuovere per uno, due, barra tre turni Quindi acquistate value Altrimenti state attenti perché certo Se lo giocate al turno 6 L'avversario è un agro E voi giocate al virraziatore Rischiate che vi fa shardare 20 carte Perché lui giocando agro quindi ha tutte carte piccole Di mana basso E quindi tende a farvi bruciare molte carte Quindi state attenti ragazzi Però i benefici sono sempre maggiori dei malefici Ecco Allora Ecco, è un mazzo molto semplice È sempre un agro doppia combo È diverso dal ramp Perché il ramp tende a tenere più sotto controllo il board In certe situazioni Qui invece andrete faccia ragazzi È importante andare faccia Il lanciatore di cortelli Cercate di mandarlo in combo con radici viventi È molto forte Possibilmente E quindi ragazzi Cercate di avere il miglior approccio aggressivo possibile I mulligan migliori ragazzi E avere comunque Darnassus subito Darnassus, uno gnomo, una radice Oppure un lanciatore di cortelli Una radice, uno gnomo In modo da poterlo mandare in combo Al qua Se siete di quarto E avete il segatronchi Tenetelo sempre Perché può essere Vi da value Il virraziatore Allora Qualcuno lo tiene anche ragazzi di primo Io però non lo terrei di primo Certo Se avete moneta Innervate Tenete il virraziatore Chiaramente Proprio perché poterlo giocare A turno 3 È molto Valida Come cosa Però a parte questo Non lo tenete altrimenti Se riuscite Se vedete che siete Contro un Partita inoltrata Ancora non avete la combo in mano Evitate di giocare il virraziatore Perché rischiate di perdere la combo E può essere un problema dopo Come mazzo E quindi ecco Va giocato un po' così Però cercate di essere comunque Sempre aggressivi E niente Ora ve lo faccio vedere Ma è un mazzo abbastanza semplice Da giocare Non è molto difficile Però Assicura una buona Una buona tenuta Il ladder Ora vediamo un attimo Quello che ci Quello che ci inventiamo Ok Jaina Allora per noi Jaina Può essere un problema Ragazzi Perché ci potrebbe Counterare Abbastanza facilmente Allora Qui togliamo tutto Tegliamo solo L'innervazione Ragazzi Teniamo Ok Il recluta di Darnasus È molto forte Ottimo Virraziatore Ok Ci possiamo provare Ragazzi Ci possiamo provare Passiamo I miei saluti Lo salutiamo Piazzo un po' il volume Perché se no Non sentite niente Ok Allora io farei così Ragazzi Così lo costringiamo O A fare ping Quindi a tenere comunque Il bordo vuoto Oppure A giocare qualcos'altro E comunque Con l'ira Silvana Riusciamo a tenere A tenerlo in scacco Comunque Ah È un po' Jella Ragazzi Questa è un po' Jella Allora Io ci proverei Ragazzi Allora Lui a turno 3 Può congelarcelo Potrebbe congelarcelo Vabbè Proviamoci Ragazzi Ha giocato la moneta Ha giocato la moneta Quindi non può fare Pecora Oppure Palla di fuoco Può congelarcelo Però E infatti Eccolo là Che arriva Eh Ha avuto fortuna Aveva una mano Abbastanza forte Ragazzo Va bene Va bene Eh Allora Facciamo così Andiamo a pesca Facciamo carica Ok Vediamo cosa gioca lui adesso Ok Almeno ha sprecato La palla di fuoco Ah Brutta 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 Penso ragazzi Che potrebbe essere Persa la partita Potrebbe essere persa Allora Giochiamo il secondo Virrazzatore Vediamo se ha Se ha da risponderci Eh vabbè Ce l'ha un po' Tutte il ragazzo Ce l'aveva un po' Tutte il ragazzo Vabbè Vabbè ragazzi Qui Che gli raccontiamo Ce l'aveva tutte Ce l'aveva veramente Tutte Ce l'aveva Allora Facciamo così Andiamo a pesca Faccia E passiamo Eh il problema ragazzi Che abbiamo finito le carte Il problema è quello Ricercato Vabbè ce le regala lui Quindi va bene Eh Allora Speriamo che Non abbia Allora 3-6 Ping Speriamo che non Siano entrate magie Molto potenti Che a noi C'ha dato magie Di merda Comunque ecco ragazzi Qui abbiamo avuto Sfortuna Perché lui aveva Una mano Bassissima E quindi Ci ha potuto Ci ha permesso Di shardare Molte carte Ci ha costretto Ok Ah Cattivissimo Il ragazzo Cattivo Molto cattivo E noi allora Facciamo Per forza Facciamo così No Forse non è il caso Facciamo così Speriamo che non abbia La spazzata in mano Eh vabbè Però certo Gli ha dato Tutte le spell Tutte le spell Migliori Si è preso Comunque Si è preso Tutte le spell Migliori Cattiavi Catch Facciamo così Facciamo così Facciamo così Vediamo che si inventa Adesso E ha un danno Dal lethal Vediamo che cosa fa Cioè È il lethal Ora Vediamo che cosa si inventa Quella fregatura È se avesse Un healbot O qualcosa del genere Teoricamente Dovremmo aver chiuso Teoricamente A meno che Non Se non mette Una provocazione Grossa Guardate che Magia Del cavolo Che ci ha dato Vabbè Dai Hai perso Dai Tranquillo Può succedere Speriamo eh Se non travolge La partita Perché i due danni Sono già assicurati Quindi anche se pulisce Il board Va uno E io Posso fargli un danno Vediamo un po' Come risponde Beh infatti Si è arreso Mi dispiace Dai su Mannaggia Oh Bravo 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 A posto ragazzi E questa è andata bene Ci siamo Lui ha avuto Molta fortuna Perché comunque Si aveva Mani molto basse Ed è riuscito A counterarci Molto bene Il bilazziatore Però La forza brutta Ha trionfato Perché abbiamo fatto Moltissimi danni Anche se abbiamo perso Le combo E altre E altre E altre carte Siamo riusciti Comunque A tenerlo in scacco Ok Allora Ne facciamo un'altra E vediamo un po' Come va Che bello ragazzi I bellissimi errori Da Blizzard Praticamente Girava a vuoto La Clessidra Ho dovuto chiudere E aprire E ora è da un sacco di tempo Mi fa Sei stato riconnesso Allora la partita in corso Maledetta Blizzard E mi ha fatto perdere La stella Va benissimo Va benissimo Penso che ormai Non ci farà collegare Quindi ora Non so neanche Vi so ne aspettare Ragazzi Mettiamo in pausa E aspettiamo La prossima partita Niente ragazzi È bloccato fisso In qui Ormai saranno Dieci minuti Che mi fa sempre così E mi si blocca Quindi ragazzi Basta con il video Spero che Tanto in una partita Ce la siamo fatta Spero che il mazzo Vi sia piaciuto E niente Ci becchiamo la prossima volta Scusate per il problema Tecnico Ma È sempre colpa Della Blizzard Ciao a tutti Ciao a tutti